Sinceramente, ovvero viva la faccia della sincerità. E qui, madame, ecco il tavolo che ho fatto riservare per loro, è il peggiore. Si vede, proprio sotto questa pianta dalla quale cadranno fogli animaletti nei piedi. Sì, ho fatto mettere qualche animaletto di più sulla pianta appunto per loro. Sì, dei maggiolini, due o tre cicale, una chiocciolina. Oh, benissimo, vogliamo accomodarci. Lei è marchessa da questa parte, la baronessa è qui e io mi siederò qui. C'è un po' d'arietta qua, eh? Arietta? Allora le cedo il mio posto, qui non c'è arietta, c'è corrente, sicura. E così se la gode lei. In questa maniera sarò anche più lontano dalla baronessa e con un'opportuna disposizione di fiori evito pure di vederla. Baronessa, le ho riservato questa sedia sgangherata, proprio quello che ci vuole per una cicciona come lei. Adolfo, lei ha senso di queste attenzioni. Che gioia! Avete notato che finizia l'arredamento? Guardate questi piatti, autentiche tracce di pomodoro del 1948. E' bene affilato questo coltello? Ah, affilatissimo signore, osservi. Mi passa il portacenere? No, grazie, serve a me. Non fa niente, c'è il suo bicchiere. Questo ristorante è unico, ci si sta malissimo, ma in compenso ci si spende l'occhio della testa. E poi hai frequentato da gente così brutta, ma così brutta. Ma oggi si mangia benissimo, ho questo soufflé cucinato in modo squisito, sinceramente. Cosa? Che me l'hai educato, mi si permette. Figuratevi se mi fa piacere confessarlo. Ma noi dobbiamo dire sempre la verità. Non si preoccupi, il merito non è mica nostro. Ah, volevo ben dire, di chi è allora? Il merito è tutto della CPCAS. Agip Gas è il gas per una perfetta cottura. Agip Gas costa di meno perché riscalda di più. Agip Gas non sporca le pentole. Agip Gas dura di più. Dura di più. Dura di più. Agip Gas. Dura di più. Dura di più. Grazie a tutti.